Buongiorno a tutti i signori, ben ritrovati su Pausa Caffè Live. Abbiamo una notizia veramente allarmante. C'è stata una violenta scossa di terremoto a largo delle isole Salomone. Cerchiamo di capire un attimo la situazione. È stata una furtissima scossa a largo delle isole Salomone che ha raggiunto la magnitudo 6.9. Signori, è veramente tantissimo. L'allarme è stato lanciato sia dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Italia che dall'Osservatorio sui terremoti statunitensi. In un primo momento è stata diramata anche un'allerta a tsunami, sapete la conseguenza poi, no? Che causa un terremoto. Un allarme è subito diramato ma fortunatamente anche subito rientrato. La scossa ha avuto luogo alle 13.03 ora, locale che corrisponde alle 3 di notte ora italiana. Per il momento non è dato da sapere se questo terremoto abbia avuto delle conseguenze, ma Manasse Sogavar, portavoce del governo delle isole Salomone, ha riferito a Reuters che dalla capitale Ognara non arrivano segnalazioni fortunatamente su danni su case, su posti, cose, persone, edifici. Il primo ministro australiano, Anthony Albanese, nelle ultime ore ha riferito in Parlamento che non ci sono feriti, ma il tetto dell'annesso dell'alto commissariato è crollato, il che indicherebbe probabili danni in tutta la città. Disagi anche all'aeroporto di Ognara, dove parte del tetto dell'edificio è crollata impedendo l'accesso conseguente ai passeggeri. Molti cittadini scrivono sui social che improvvisamente durante la scossa molti oggetti, come normale che sia, sono stati scaraventati sul pavimento, quindi grossi movimenti di oggetti, anche tavoli, cose varie. C'è stata anche una testimonianza da parte di Joy Nisha, che è un receptionist dell'Heritage Park Hotel di Ognara, che ha riferito e ha detto che è stato molto forte. Diversi oggetti nell'hotel sono caduti, ma tutti stanno bene, solo che siamo stati presi dal panico. E questo, signori, è tutto per questo video. Io vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiremo alla prossima, sempre su Pausa Caffè Live. Vi aspetto!